Dobbiamo guardare avanti, dobbiamo cercare di dare un grande senso a questo campionato, a queste tre partite. Quindi dobbiamo ritornare ad andare in campo con determinazione, voglia, coraggio e tutto il resto. A parte il fatto che stanno bene anche fisicamente, è una squadra che sicuramente non è stata costruita per lottare, per non retrocedere. L'intento iniziale era sicuramente ben altro, è una squadra che non si è ritrovata ai primi tempi, anche al campo di allenatore hanno avuto qualche problema, ma è una squadra di grande qualità, con ottimi giocatori, che gioca anche un buon calcio. Naturalmente davanti, dal centrocampo in su, è una squadra, secondo me, che poteva anche dare fastidio alle grandi. Adesso sembrano usciti definitivamente da, tra virgolette, da periodi meno buoni e stanno attraversando un buon momento. Quindi temiamo e rispettiamo tutto del Cesena.